Ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale. Gli angeli sono sempre con noi, lo sappiamo, ci guidano, ci proteggono, ci accompagnano e quale miglior modo per averli ancora più vicino? Quello di crearne uno. Sarà il nostro angelo di protezione, l'angelo che avremo nel nostro spazio quando vogliamo essere vicini a un'energia più grande, più bella, più luminosa. Non è difficile da fare, lavoriamo un po' con il concetto del colore come abbiamo iniziato la settimana scorsa. In questo caso io ho creato l'angelo con una scala di colori legata ai chakra. Questo è l'angelo, è abbastanza grande come vedete, qui ci sono i vari colori, poi l'ho arricchito con pizzi e quant'altro, ma questo lo vedrete poi nel processo e le ali sono fatte di pezzettini di legno, rametti di albero. E con questa bella energia angelica andiamo a cucire il nostro angelo. Pronti per realizzare l'angelo abbiamo bisogno della sagoma dell'angelo, un tessuto chiaro, andiamo a cucire tutto intorno sul tessuto la sagoma dell'angelo e andiamo a imbottire. Per realizzare il vestito abbiamo bisogno di batting da mettere sotto, quindi da usare come partenza, come base, perché sopra andremo, come ho fatto qui, a sistemare i vari pezzi come volete, con la misura che più vi piace, ma creando l'abito e cucendo esattamente sopra al batting. E adesso vi faccio vedere. Inizio posizionando questo pezzo che è tagliato, come vedete, in diagonale, ma a me piace, quindi lo metto qua e tengo un po' di spazio, in modo che non sia proprio parallelo al batting, ma un pochino più in giù. Poi posiziono quest'altro pezzo che è un batik, quindi è bello da entrambi i lati, lo metto sopra esattamente a filo, vedete, sopra, a filo, punto gli spilli e vado a cucire. Cucito, vedete, cucito, apro, stiro bene, adesso vado a cucire un altro pezzo, in questo caso un giallo, giallo-arancio. Lo vado a mettere di nuovo in questa posizione e vado di nuovo a cucire. Punto gli spilli, ecco qua, vado a cucire. Proseguo con il verde, di nuovo dritto contro dritto, posiziono bene e vado a cucire. Punto i miei spilli e vado a cucire. Ho terminato utilizzando tutti i tessuti arrivando fino al viola. Ho usato un po' la scala dei colori, in questo caso dei chakra, perché questo è il mio angelo che mi proteggerà, quindi lo userò nella mia stanza da lavoro e sarà il mio angelo che protegge. Una volta finito tutto il discorso della cucitura, quindi colore dopo colore, io ho usato un po', vedete, dei pezzi un po' dritti, un po' in diagonale, per dare un pochino anche di movimento. Questo dipende molto da come piace a voi. Una volta, dicevo, terminato questo ho aggiunto il retro, semplicemente dritto contro dritto, ho cucito e ho lasciato aperto il fondo e in alto questo pezzettino per il passaggio della testa dell'angelo. Quindi semplice, veramente un lavoro bello e semplice nello stesso tempo. Ho arricchito mettendo un pizzo, sia qua che qua. Ho cucito questi particolari a mano con un filo viola, qui anche sono andata a fare un punto filza praticamente, sempre col colore viola. Qui ho usato il rosso, semplici punti passati giusto per dare comunque un pochino più di tono. Ho inserito l'abito nel mio angelo, mi piace l'idea, gli ho fatto due piccole toppe sulle gambe, gli occhi, ho fatto due perline e la bocca è disegnata con il pennarello indelebile. Adesso aggiungo un po' di fard, ho aggiunto il fard e ho creato questa aureola con questo filo di lana molto ricco di colori e accompagna il vestito. Adesso devo andare a cercare le ali. Non voglio fare le solite ali e quindi vediamo se trovo dei legnetti o qualcosa comunque che sta bene. E anche le ali sono pronte. Ho trovato questi rametti nel prato, li ho praticamente messi insieme, legati e incollati dietro in modo tale che così l'angelo è completo. Grazie per essere rimaste con me fino alla fine di questo video. Mi auguro di vedere i vostri angeli pubblicati e mi auguro soprattutto che vi facciano compagnia e vi portino tanta energia. Iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccate sulla campanella e alla settimana prossima. Ciao! Ciao!